Ballando con le stelle è iniziato da pochissimo e già ci sono i primi screzzi tra i concorrenti, cosa sta accadendo lontano dalle telecamere Ballando con le stelle è iniziato solo da una settimana e sono nate già le prime antipatie dietro le quinte Come è normal che sia in un format competitivo le scaramucce non mancano mai e i primi screzzi si sono generati dietro le quinte, nello specifico contro una concorrente Il programma di Milli Carlucci ha già registrato un grande successo, nella prima puntata, infatti, ha registrato ascolti record superando addirittura il programma di Maria De Filippi, Tussiche Vales Un risultato strepitoso che ha riempito di gioia la padrona di casa Ballando con le stelle, cosa è successo dietro le quinte? Una delle concorrenti che ha più sorpreso nella prima puntata di Ballando con le stelle è stata senza dubbio Bianca Guacero La showgirl con la sua esibizione ha sorpreso tutti, soprattutto la giuria che le ha dato voti altissimi Ma la conduttrice Rai, sebbene nella performance abbia spiazzato tutti, pare che debba affrontare altri problemi A rivelarlo è stato Alberto Dandolo che su Oggi ha raccontato un retroscena di cosa starebbe accadendo dietro le quinte del programma di Milli Carlucci Pare che la Guacero non sia vista di buon occhio dagli altri concorrenti, che vedrebbero l'attrice a conduttrice troppo competitiva, cosa che non piace Ma le critiche per Bianca Guacero non sarebbero finite qui, i concorrenti avrebbero avuto a che ridire anche su un'altra questione A detta degli altri ballerini V-Play avrebbe già una grande preparazione nella danza, cosa che quindi la avvantaggerebbe Proprio nel programma tale e quale show la Guacero aveva dato sfoggio della sua bravura con il ballo Ci sarebbe poi un'altra indiscrezione che riguarda sempre la Guacero e che è stata raccontata dal sopracitato tabloid L'attrice, che già aveva raccontato di dover superare una serie di blocchi e disagi, potrebbe aver incontrato l'amore in questo programma televisivo Dandolo si chiede cosa bolla in pentola, non sarebbe la prima volta che ha ballando con le stelle Tra concorrenti e ballerini professionisti si crei un certo feeling Era accaduto con il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, e la sua allora partner Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà nel corso del programma, che promette di essere ricco di colpi di scena